Una grave situazione che si traduce nella drammatica riduzione dei servizi alla persona, quella che vive la sanità pubblica provinciale. Sono le parole con cui il segretario della CGL Aquilana, Francesco Marrelli, e il segretario della Funzione Pubblica Sanitaria, Anthony Pasqualone, iniziano la loro lettera aperta indirizzata al neodirettore generale dell'ASL di Avezzano sul Monalacuila, Roberto Testa. Una lettera, quella della CGL, che in realtà non è assicurato che giunga alla giusta destinazione, visto che la giunta regionale, dopo la crisi della maggioranza scaturita dalla ribellione della Lega proprio sulla nomina non condivisa dei manager dell'Aquila e di Chieti e la successiva richiesta di una verifica, non ha, insomma, ancora ufficializzato la nomina dei due direttori. Il territorio della provincia dell'Aquila continua alla lettera rischia un inesorabile abbandono delle aree montane a causa della scarsità di servizi pubblici e di lavoro. La politica in questi ultimi dieci anni ha concentrato il suo operato sulla quadratura dei bilanci e sui diktat che arrivavano dal Ministero della Salute e da quello dell'economia. Tutto ciò ha prodotto una carenza di personale sanitario stimabile, scrive ancora la CGL, in oltre mille unità lavorative. E poi liste di attesa che per alcune visite specialistiche superano i 450 giorni e la chiusura del punto nascita di Sulmona. Un elenco in realtà ancora lungo, quello messo su carta dal sindacato, che fa un appello al futuro manager della ASL. Le chiediamo di rimettere al centro della sua azione la persona, cioè le lavoratrici e i lavoratori che per troppi anni hanno vissuto condizioni massacranti di lavoro pur di assicurare la continuità del servizio. E poi anche gli utenti, ovvero coloro che si rivolgono al sistema sanitario pubblico che deve garantire la qualità delle prestazioni.